sciogliere un po' vai dentro che te adesso c'è Canet c'è Canet c'è Canet c'è Canet c'è Canet c'è Canet guarda chi riesce tu? è Napoli c'è no dai ragazzi devi riesce a riparare i piedi non devi andare a rispondere 12 12 15 9 10 9 9 9 le braccia sempre esatte con le ginocchia con le ginocchia con le ginocchia le braccia le braccia le braccia 10 10 9 10 10 10 10 10 Grazie. Grazie.